Tante volte la mobilia fa strani effetti, condiziona e poi davvero basta, veramente non si può fare i napoletani se non si è napoletani veramente, veramente. Dai, se a Napoli non ci si nasce, non si è napoletani. In realtà non è vero manco questo. No, perché uno ce n'è, un uomo solo in tutto il pianeta, che veniva da molto lontano ed è diventato più napoletano dei napoletani. Sto parlando di Diego Armando Maradona. I tifosi del Napoli lo incontrarono per la prima volta alle 18.30 del 5 luglio 1984. 1984, una bellissima giornata d'estate, sole pieno, in uno stadio San Paolo gremito, in ogni settore era pieno di gente, erano 70.000 e oltre e avevano pagato tutti un biglietto solo per vederlo salutare un po' e fare due palleggi a centrocampo. Fuori dallo stadio, sulle bancarelle, oltre agli oggetti classici, cioè sciarpe, magliette, cappellini, bandiere, si vendevano audiocassette come questa. Ve la ricordate? L'audiocassetta, i più giovani in platea non sapranno neanche di cosa parlo. Queste si vendevano, ce ne vendevano tante, e c'erano dentro, all'interno, solo tre canzoni. Maradona era appena arrivata, lì non Maradona. Maradona è meglio per lei, l'amma fatto mazza tanto per la via. E poi c'era anche il tango di Maradona, e la famosissima Oh mamma, 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 oh mamma sai perché mi batte il corazon. Solo queste c'erano all'interno della cassetta. E quanto costava? Quanto costa? Scusi, quanto? Dotto, 6.000 lire la cassetta originale, e 4.000 lire quella falsa originale. Quale volete? Ma perché? Che differenza c'è? Niente, questa è originale, e quest'altra falsa originale è un pochettino meglio, si sente molto meglio, non vi preoccupate. Ora, quel 5 luglio 1984, tra il pibe d'oro e i napoletani, iniziò una storia d'amore che non è mai finita. Addirittura due mesi fa è stata inaugurata, proprio in quello stadio che oggi porta il suo nome, una statua, che lo ricorderà per sempre. Dieghito era capace di incantare tutti. Quando aveva il pallone al piede, sfidava tutte le leggi della fisica. Come un prestigiatore, come un giocoliere, un funambolo, incantava tutti. Persino i suoi riscaldamenti in centrocampo diventavano spettacolo. Guardate qua. Addirittura con le scarpe slacciate. Come vedete il pallone non tocca mai terra, mai. Ora, detto francamente, insomma, a noi non interessa dividere il Maradona sportivo dal Maradona uomo. Prendo a prestito una frase di uno scrittore argentino. Non mi importa di cosa hai fatto tu nella tua vita, mi importa di cosa hai fatto alla mia. E in effetti, Maradona ha cambiato un po' la vita di tutti. Mondiale di Messico 86, quarti di finale, Argentina-Inghilterra. Era una partita molto tesa, dopo la storia delle Forkland. Ma nel secondo tempo, dopo aver segnato un primo gol con la mano, la famosa mano di Dio, il Pibe de Oro segnò il gol più bello della storia del calcio di questo pianeta. Da centrocampo 11 tocchi, 6 giocatori scartati, portiere compreso. Era talmente veloce quell'azione di Diego Armando a Maradona che il telecronista non riuscì neanche a commentare. A un certo punto disse È un gol arcinoto questo. Ma io vorrei riavvolgere un po' il nastro e tornare a un anno prima di quel gol. Cioè nel 1985, Maradona seppe da un compagno di squadra del Napoli che un papà di Acerra, un paese della provincia napoletana, cercava disperatamente soldi per un'operazione che avrebbe salvato suo figlio, un bambino con una grave malattia. Maradona aveva accettato l'invito, ben volentieri, a partecipare a una partita così di beneficenza. Ma l'allora presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, non aveva dato il permesso ai suoi giocatori di giocare quella partita per paura degli infortuni. Era anche comprensibile, no? Maradona era stato l'investimento più importante della città per il suo acquisto. Era intervenuto anche il Banco di Napoli. Non si potevano rischiare imprevisti. Ma Maradona, sappiamo, era capa tosta. Pagò lui stesso, la sua assicurazione, una copertura ulteriore della polizza contro gli infortuni. Esattamente 12 milioni di lire. 12 milioni di lire per un'ora e mezza di rischio. Ora, 12 milioni di lire possono sembrare pochi. Ma a quel tempo, con 12 milioni di lire, si poteva comprare un'automobile di media cilindrata. E così, con la sua assicurazione sotto il braccio, Maradona andò a giocare in quel campetto dissestato ad Acerra. Esistono poche immagini sgranate di quel giorno, vecchie foto di qualità scadente. Ma i ricordi dei tanti che erano lì presenti e che avevano pagato un biglietto sono vividi e indelebili. Maradona prima si riscaldò fra le automobili parcheggiate. Ecco, qui dietro c'è una vecchia automobile argenta. Fece alcune foto di rito con bambini e organizzatori. E poi entrò in campo sotto la pioggia battente ad Acerra, salutando gli spettatori sugli spalti improvvisati di quel campetto sgarrupato di periferia. Maradona entrò in campo con grande entusiasmo, grande, grandissimo, manco fosse la finale del mondiale di calcio. E finalmente incominciò la partita, in quel campetto fangoso. Alla fine del primo tempo Diego tornò negli spogliatoi, arrabbiandosi un po' con quelli che giocavano con lui, addirittura con suo fratello, perché gli aveva passato male la palla. Era sporco, bagnato. Non aveva ancora segnato. Il risultato in effetti non era importante, d'altronde lo scopo della partita era un altro, raccimolare un po' di soldi per questo bambino. Eppure, appena iniziato il secondo tempo, Maradona si ricordò di essere il più grande giocatore del mondo. E rubò a modo suo la palla a centrocampo, entusiasmando per un attimo il pubblico. Tutti gridando Maradona, Maradona, tanto che qualcuno dal fondo gridò Maradona, Vattene in da porto solo tu, vattene in da porto solo tu. E Diego accolse così il suggerimento. Incominciò a correre verso la porta avversaria, dribblando. Uno a uno tutti gli avversari. Li scartò tutti, compreso il portiere. E mise la palla in rete. Gol, gol, gol. Undici tocchi, sei avversari. Gol. Mi ricorda qualcosa? Sì. È esattamente ciò che farà contro l'Inghilterra e i mondiali di Messico un anno dopo. Praticamente si può dire che Maradona, la prova generale del gol più famoso della storia del calcio, la fece ad Acerra. Il portiere avversario, certo non professionista, vedendo la palla che era entrata in rete, era triste, sconsolato. Allora gli si avvicinò un tifoso e gli disse Oh portiere, sei grosso, sei grande. Ma perché? Ma ti rendi conto? Hai pigliato uno gol da Maradona. Bravo, sei proprio bravo. Intanto Diego esultava con le braccia tese verso il cielo. Stavolta non aveva vinto, certo, il mondiale, ma aveva raccolto tanti soldi. E grazie a quella partita, quel bambino malato ebbe le sue cure, si salvò e oggi è un uomo di 37 anni. Ora però, ricordiamoci di quel campo, di quel fango e pensiamo che il più grande giocatore del mondo, al culmine della sua carriera, pagò 12 milioni di lire di tasca sua per andarci a giocare. Maradona, che scardinò il potere sportivo del nord portando il Napoli allo scudetto, non era mai successo prima. Qualcuno, con la proverbiale goliardia napoletana, dopo la vittoria del primo scudetto, mise uno striscione sul muro del cimitero di fuori grotta, riferendosi ai defunti, e non sanno che si sono persi. Talvolta però il destino è stravagante. Proprio nel paesino della partitella di Maradona, a Cerra, era nato nel 600 un altro simbolo della città di Napoli, Pulegenella.